ciao a tutti benvenuti all'appuntamento con ta degli scacchi signori quinto turno dell'olimpiadi degli scacchi di budapest 2024 andiamo a vedere risultati e classifiche prima del maschile e poi del femminile e a fine video la partita della giornata diciamo che questa volta non riguarderà le migliori partite le partite più geniali i giocatori più clamorosi le vittorie di davide contro golia no 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 andremo a vedere qualcosa che mi farà rabbrivedere a caponare la pelle bene ma non voglio anticiparvi nulla anzi prima di cominciare mi raccomando like iscrizioni attivata la campanellina tutte le notifiche per avere tutte le novità del canale allora l'india in prima scacchiera sconfigge 3 a 1 il pur forte azerbaijan però l'india e l'india secondo me l'india le vincerà tutte tutte 11 fra il record è uno squadroide gucash vince erigaisi continua a vincere pasquananda pasqualino sette europee lui sa contenta di fare i pareggi vidita anche solidi vincenti l'ungheria batte l'ucraina con la vittoria di rap contro ivanchuk purtroppo ivanchuk che si è un alieno ma quando davanti ai vampiro ha settato del sangue purtroppo ve l'ho detto ivanchuk fa il capolavoro la partita prima e poi magari dopo rimane un po così ed anche da capire rapport è un giocatore iperattivo giocatore anche lui clamoroso fantasio di vanchuk alla sua età insomma può giocare due o tre partite geniali poi è chiaro che non ha la continuità se non sarebbe numero uno del mondo e tutte le altre scacchiere pat quindi gli ungheresi padroni di casa zitti zitti quatti quatti vanno in testa alla classifica con l'india ma attenzione abbiamo la vittoria della cina sulla spagna di misura con weiji che batte anton guiaro ding continua a pattare di non vince una partita dai dal match con nepo mi chiedo come come possa essere un campione mondo che non vince mai una partita la cina anche l'è in testa a punteggio pieno e poi abbiamo la sorpresissima vietnam i vietnamiti del cio a signori mister lao i miei amici vietnamiti che mi vogliono fare il regalo anche a scacchi ovvero vincere le olimpiadi di scacchi ok e sconfiggono dopo aver battuto l'usbekistan di le protino vanno a sconfiggere niente proprio di meno che la polonia che era una squadra abbastanza quadrata io sulla polonia non ci avevo scommesso molto mi sembrava una squadra un po così sì interessante forte ma la vedevo un po appannata non so duda non è più duda di prima comunque questi vietnamiti menare ma menare quindi quattro squadre sono rimaste a punteggio pieno india cina ungheria e vietnam a sorpresa la turchia perde con la norvegia di carson carson riesce a non a non vincere contro mustapha il mass il giocatore che sta sul divano pensando di stare a giocare e scarse stava perdendo tra l'altro è riuscito a salvare il finale christian sempatta con gura il herdogmus a corto di tempo purtroppo ha fatto un blunder se ha perso ma ha forzato perché il pareggio non bastava visto che in quarta scacchiera la norvegia aveva già vinto con un che dal herdogno si è sacrificato provato e ha perso poverino comunque va bene l'iran batte la sorpresa canada tre e mezzo a mezzo un ottimo iran gli stati uniti battono 3 1 l'argentina e dominguez riesce a farsi sconfiggiore da diego flores caruana immacolato le vince tutte mostruoso l'usvekistan di leprotinov si riprende sconfiggendo la moldova l'olanda di ghiri batte cuba 3 a 1 ma ghiri ovviamente patta la germania a sorpresa perde col montenegro sto amaro montenegro dopo aver sconfitto la francia gli sconfigge anche la germania incredibile lamaro montenegro vincent keimer fuori forma da matti le perde tutte tra l'altro con giocatori molto meno quotati molto meno quotati l'inghilterra batte l'australia nel derby del rugby che l'inghilterra sarà la prossima avversaria dell'italia devo essere sincero è una squadra più forte di noi fortuna però ci si può giocare contro ci si può giocare contro non è impossibile ardua ma non è impossibile siamo sui livelli dell'olanda se abbiamo battuto l'olanda possiamo battere anche l'inghilterra la francia fa suo il derby delle alpi con la svizzera 3 a 1 il brasile perde di misura con la serbia brasilia di bredi armenia vince 2 e mezzo 1 e mezzo con la svezia romania batte il kazastan 2 e mezzo 1 e mezzo israele batte la colombia attenzione soffrendo con tre patte alla colombia alla colombia non riesce il miracolo per 2 e mezzo a 1 e mezzo l'islanda batte la bulgaria 2 e mezzo 1 e mezzo il cile batte l'ungheria b potrei dire quasi sorpresa le filippine battono la slovenia e qui devo dire a sorpresissima sadorra batte fedosev sadorra aveva perso con racconto maro e poi mi batte fedosev incredibile scusate ma ci deve essere qualcosa col cursore sono andato troppo troppo in basso croazia vince il derby con la bosnia 3 a 1 l'italia batte a fatica il paraguai 2 e mezzo 1 e mezzo con l'odici che perde contro del grado va bene andorra perde 3 1 con la lituania austria batte il taggis da 2 e mezzo 1 e mezzo la georgia di giubava zitta zitta 4 4 vince ancora con gli anglo coi o coi o 3 e mezzo a mezzo repubblica cieca 4 a 0 facile sul marocco la grecia vince 3 e mezzo a mezzo con l'estonia l'irlanda perde con la danimarca 3 a 1 egitto lettonia 2 a 2 lussemburgo perde con la slovacchia venezuela batte in misura il sud corea 2 e mezzo 1 e mezzo il belgio batte risicato due e mezzo nel mezzo contro la malaisia messico vince 3 e mezzo a mezzo contro la repubblica domenicana trinidad e tobago perde col portogallo 3 a 1 l'ungheria 4 a 0 sul libano il madagascar perde maracotomaro vince in prima scacchiera per il mio fanta olimpiadi abbiamo fatto quattro vittorie signori quattro vittorie su quattro però oggi purtroppo ci sarà un turno devastante almeno su due scacchiera purtroppo i sorteggi non mi stanno favorendo stanno andando benissimo i miei benissimo però sempre contro giocatori molto forti rispetto alla nazionale che hanno norma c'erano dice 4 a 0 sul salvadore il sudan perde con la mongolia il bangladesh batte la giordania 3 a 1 le farabin con 4 a 0 sull'iraq albania 3 a 1 sulla giamaica la scozia batte il nicaragua lasciando in panchina gordon ramsay valdhausen ma va bene vatten mala perde col giappone 4 a 0 malta perde 4 a 0 con il chirurghista nel capo verde di ortega che nella mia squadra dei tanisti d'africa da vedersi scacchierando anche il fanta olimpiadi vince a sorpresa col costo e ortega vince con saraci io pensavo che questo fosse tra l'altro col nero questo fosse un incontro proibitivo almeno poi che il costo vincesse col capo verde così ortega avrebbe affrontato il giocatore pochino più debole invece no addirittura vince anche il capo verde contro la sorpresa contro il costo capo verde noi ci abbiamo vinto col kosovo soffrendo grande capo verde sui fa capire la mia lungimiranza nel scegliere i giocatori nel capire chi c'è chi non c'è soprattutto sulle sulle nazionali piccole nessuno conosce turkmenistan batte cipro 3 a 1 bolivia batte l'etopia tra mezzo a mezzo palestina perde con gli emirati arabi uniti tra mezzo a mezzo littenstein fa due a due torna renato frick e stavolta pareggia la prima primo mezzo punto dell'olimpiade la nuova zelanda perde due e mezzo a un e mezzo col puerto ricco il boswana di olatozze fa due due col gale se olatozze continua a non vincere per fortuna ce l'ho sempre in panchino sudafrica vince 4 a 0 sul pakistan 3 a 1 di hong kong su algeria zimbabwe batte la libia due e mezzo nel mezzo l'angola di david silva altro mio giocatore del fanta olimpiadi preso all'ultimo secondo per fortuna visto che il grande maestro del senegal non c'è nemmeno e il senegal ha saltato quattro turni ho fatto bene silva ea 4 su 5 ottimo abbattuto un giocatore comunque un maestro fide bene bene si è vinto col sultanato del brunei lo zambia vince il derby col malau derby dei nasi lunghi che tra mezzo a mezzo e poi da tra mezzo a mezzo sulle antille olandesi antille olandesi schierano un giocatore clamoroso ci dovrò fare un video prima o poi non lo so l'uniche cappella giocatore che cappella in continuazione una cappella dietro un'altra si chiama così perché mister blender però non andremo a vedere la sua partita monaco afghanistan due e mezzo nel mezzo in mozambico fa due due col uganda ma donaldo praeva altra mia riserva del fanta scatti vince praticamente ho fatto sei su sei anche se contano solo quattro scacchiere tailandia vince tre e mezzo e mezzo con la costa d'avoglio de gondo fa il mezzo punto della bandiera anche perde con panama singapore batte l'honduras peru batte il catar tunisia vince 4 a 0 la nigeria vince 4 a 0 le scelle pattano il derby delle isole due a due con l'isola di meno senegal perde anche con haiti barbada su in cono 42 il derby con le bermude abbia solito 22 con la birmania via via andiamo a vedere vi far stoppate il video andate anche a vedere voi i risultati perché sono il video diventa lungo da commentare una partita incredibile quattro vince le fiji perdono questo riname il tuo go pareggia il derby del cioccolato con il cameron derby del cacao ma non veramente sono i più grandi produttori di cacao al mondo l'esolto perde due e mezzo e mezzo con la mano si era leone per le tre uno consotto ma è principe la tanzania per le col baren le mozzarella e santa lucia vincono con palau mozzarella e santa lucia interessanti come come micronazione il gana vince tre e mezzo e mezzo lo svazgan vince 3 1 con la mauretania a ruba ruba un punto al macau san marino riesce a perdere con la papua nuova guinea che non schiera rio fiocco l'eritrea vince con l'isola e caiman antigo barbude vincono con le maldive 3 a 1 la guinea quattoriale vince tra mezzo e mezzo con il vanuatu e montel ferrus tarzan vince ovviamente vince va bene poi il gabon con bingo bongo che vince seconda scacchiera va bene pochino a falo ciato 1 a 3 2 2 del bhutan la repubblica democratica del congo riesce a strappare un pareggio ma semplicemente perché sull'ultima scacchiera hanno vinto a forfè cioè le comore giocavano in tre e la repubblica democratica del congo riuscire anche a non vincere a casongo a mimbasa ma siete lo stato più grande dell'africa mi fate queste figure e guardate in ultima scacchiera c'è la partita c'è l'incontro da cui andremo a estrapolare la partita grane grenada contro laos ma vedere l'ultima scacchiera dell'ultima partita delle olimpiadi ok perché perché voglio farvi vedere anche cosa succede nelle ultimissime scacchiere come giocano persone che vanno alle olimpiadi senza saperne neanche il motivo ok bene andiamo a dire classifica veloce veloce come dice zena avanti abbiamo india cina vietnam e ungheria punteggio pieno seguiti i tallonati dall'iran dalla norvegia di carson a 9 punti poi otto abbiamo uzbekistan georgia stati uniti azerbaijan spagna romania polonia ucraina italia che quindicesima ottimo piazzamento per adesso lituania armenia francia inghilterra israele austria filippine olanda montenegro croazia islanda cile serbia ok l'italia affronterà l'inghilterra erano tutte forti potevamo prendere l'armenia che era disumanoide potevamo prendere l'ucraina disumanoide la polonia disumanoide ok ci è andata ancora di lusso forse potevamo pregare di prendere austria filippine montenegro no perché tutto sia francia che germania forse la croazia era un po la portata il cile ma magari l'inghilterra è forte ma non è sicuramente l'armenia l'ucraina o la francia o la spagna o gli stati uniti bene signori andiamo a vedere il femminile velocemente c'è snoopy che gioca con le biglie incredibile anche questo ci voleva maledizione allora nel femminile anche l'india in testa a punteggio pieno assieme ad armenia e mongolia la sorpresa mongolia stava la mongolia signori prima guardiamo le classifiche poi i risultati poi polonia a 9 punti con georgia la cina 8 punti gli cittati uniti ungheria spagna argentina azerbaijan kazakhstan svizzera germania uzbekistan bulgaria perù serbia ungheria ucraina cuba vietnam francia austria italia e olanda signori l'italia femminile ha beccato la germania ci sarà italia germania italia inghilterra due big match anche nel calcio però nel femminile non c'è speranza germania c'è asfalto ha pescato male nel femminile e vedere i risultati del femminile del turno 5 il turno 5 il kazakhstan ha imposto insomma un punto e mezzo all'india però non è bastato l'ungheria vince 4 0 sull'estonia la cina perde addirittura con l'armenia due e mezzo a un e mezzo sarà sorpresa la corazzata cinese e qui super sorpresa la mongolia che batte gli stati uniti signori una figura veramente di di fango per per gli stati uniti perso con la mongolia signora la munkuzul abbattuto in prima scacchiera una tocchi rovo nova gli allievi di leprotti non vanno perso con le fortissime georgiane la polonia batte la turchia 31 ucraina fa 22 con l'azerbaijan la germania batte la svezia delle della famiglia kremmling 3 e mezzo a mezzo quindi figurarsi hanno demolito così la svezia figurarsi con noi la norvegia perde con la spagna due e mezzo a mezzo francia batte l'ira magari ha giocato anche ferruccio travestito da femmina il perù due e mezzo a un e mezzo sull'inghilterra l'olanda di aleon rebers che patta però vince l'olanda servia tre e mezzo a mezzo con la repubblica cecca montenegro perde con vietnum 3 a 1 svizzera brasile tra mezzo a mezzo povero brevi italia filippine vinciamo a fatica tra l'altro tea gueci e giulia sala avevano partite due finali vinti pattati per fortuna avevamo già vinto con la brunello non lo so manca ancora io notato una cosa sono queste ragazze sono molto forti tatticamente belle partite proprio nei finali finali cari istruttori della nazionale puntate sui finali perché ci sono veramente delle lacune comunque io non so nessuno è per ci mancherebbe altro vedo da fuori questo è argentina batte finlandia 3 a 1 cuba tra mezzo a mezzo su egitto l'austria batte l'ussemburgo tra mezzo a mezzo l'ungheria a b batte l'equador 3 a 1 romania 4 a 0 su l'ungheria grecia 3 a 1 sul messico la scucia perde con israele 3 a 1 canada monte carlo 3 a 1 la slovenia batte il paraguai tra mezzo a mezzo e via via tutti i risultati li faccio scorrere poi magari ve li andate a vedere l'eutralia che vince il belgio vince il pagna vince l'uganda batte l'irlanda risultato sorpresissimo il derby delle bandiere uguali andore moldova vince la moldova bozzano pareggia col bangladesh a sorpresa via via tutti i risultati vi faccio scorrere questo parte del video venite a vedere perché devo fare anche video dalla partita e mozzarella santo ci appareggiano con le palaver la guinea 4 reale vince il derby col capo verde il derby delle colonie ispano portoghese san marino riesce a perdere anche con controbandonato repubblica democratica il congo ovviamente perde voglio vedere malta perché c'era la mia anche un'altra idola l'altra eccola qua che succede dov'è l'avevo vista e hanno tenuto a riposo la quarta scacchiera e hanno vinto con milena stagna hanno delle ottime ultime scacchiera bene abbiamo visto quello che dovevamo vedere adesso passiamo alla partita un attimo che mi aggiusto la telecamera snoopi il bestormone è inutile gioca con le biglie ma cosa fa bene signori la partita del giorno è una partita che vi farà accapponare la pelle signora perché andiamo nell'ultima scacchiera dell'ultimo incontro delle ultime squadre delle olimpiadi degli scacchi ebbene sì perché faccio vedere questa partita faccio vedere questa partita perché molti di voi molti amatori molti principianti novizi che pensano di essere scarsi scacchi e lo sono è la verità non che voglio offendere nessuno io stesso sono scarso pur essendo stato candidato maestro sono tutti scarsi sotto i grandi maestri però c'è questa sfiducia, questo complesso di inferiorità questa mancanza di autostima ma io non riesco a superare i mille non riesco a superare i 500, i 800 sono scarso, sono scarso e dopo aver visto questa partita vi ricrederete sulle vostre capacità e questa è una partita motivazionale per chi crede di non essere capace di giocare a scacchi ebbene sì andiamo a vedere la partita tra Villavane del Laos e Tyler Thomas di Grenada ok preparatevi perché qui c'è da veramente anzi prima di guardare la partita prendete le pastiglie per il mal d'auto per il mal d'aria e per il mal di mare perché qui veramente rischiate di vomitare e 4 c6 difesa caro qui non voglio mancare di rispetto a questi due giocatori però a livello scacchistico devo commentare quello che stanno facendo ok e cosa sta facendo Villavane è l'attacco il Billy contro la Carrocan una diavoleria che perde praticamente un tempo col Vescovo al posto di dare scacco va in B3 ok questo Vescovo sviluppato qui c'è questo attacco vediamo e qui il suo avversario decide di sviluppare anche lui il Vescovo del Calacchiaro d4 prende il centro sembra una partita normale per adesso cavale f6 e qui non c'entra nulla con la posizione non c'entra nulla con la posizione non sviluppa un pezzo non sviluppa un pezzo non sviluppa pezzi non va sul quadrato centrale non fa niente fa a3 tra l'altro il Vescovo è ancora accecato poi non avrebbe inchiodato nulla al massimo si giocava a c3 in caso di Vescovo di 4 scacco cosa vuole farsi lo sportellino per il Vescovo in apertura cosa? ok signori ma veramente qui siamo all'apice dell'apoteos della schifezza siamo proprio l'ultimo balluardo della mediocrità questi hanno scavalcato il cornicione della decenza degli scacchisti perché non è possibile una cosa del genere guardate cosa succede allora e sei finalmente sviluppa il pezzo inchiodo il cavallo va bene si toglie dall'inchiodatura mette il Vescovo in e7 sulla versaglia e qui è bella questa sviluppa il pezzo e poi mi sono sbagliato mi sono sbagliato non dovevo andare inchiodare il cavallo dovevo tornare indietro col pezzo dovevo tornare indietro col pezzo manco gli avesse fatto h6 anzi magari se gli avesse fatto h6 lo lasciavo in preso ok signori poi ho veramente una cosa allucinante ma che sviluppi sono questi e qui imparate a non giocare a scacchi imparate a giocare a rocco corto per fortuna a rocco qui h3 che motivo c'è di fare h3 non si sa ok vuole impedire i salti a questo ha paura questo giocatore del laos ha paura cavallo c6 però il suo avversario sembra sviluppare i pezzi attenzione che poi è andata anche a vincere ma come l'andrà a vincere finalmente sviluppa il pezzo cavallo f3 ma il motore dà già un vantaggio al nero e qui visto che è commosso da quello che ha fatto il suo avversario prima col vescovo decide di perdere un ulteriore tempo anche il nero piazzare il vescovo su una diagonale più più importante secondo lui posto di mettere in comunicazione le torri qualcosa del genere e qui attenzione parte parte per la tangente il giocatore del laos è avanti di punta a ruolo signori avanti di punta a ruolo ma è un blunder perché distrugge completamente la possibilità di arroccare sta indebolendo tutte le case qui va a inchiodare il cavallo il suo avversario di granada e qui avanti di punta a ruolo non si ferma più un altro punto interrogativo signora ma vedrete la collezione di punti interrogativi che ci saranno qua allora uno può dire vabbè ma attacca il cavallo è una bella mossa una bella mossa qui se si sberlucca il cavallo sberlucco sberlucco si sberlucca un altro pedone si attacca la donna si attacca il vesco e poi con comodo ci si sposta il cavallo ok ma vediamo se il suo avversario la vede la mossa e la vede e la trova grande Tyler Thomas indicibile una cosa del genere sberlucca con la donna adesso si sta fregando le mani dice ah 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 sto attaccando il cavallo qui però semplicemente prendi il pedone guadagni il tempo sulla donna e se spostano la donna per attaccare il cavallo ci si sberlucca prima il vescovo e se sberluccano il cavallo sberlucchiamo anche il torneo per i gatti un calcolo non proprio difficile insomma a questi livelli però potrebbe essere una prova veramente una fatica di Ercole arrivare qui infatti toglie il pezzo in preso vabbè ok almeno non è cotto il pezzo in preso donna in E3 sposta la donna ma non era attaccata da niente che cosa serve sta roba qua forse perché vuole riprendere il vescovo con la donna cosa fa non ho capito e qui misteriosamente al posto di svilupparsi far comunicare i troni per i gatti torna indietro con un pezzo già mosso punto interrogativo perché vuole andare a attaccare la donna vuole andare a attaccare la donna il furbacchion e qui sviluppa un pezzo finalmente il bianco attacca la donna il nero donna di 3 un'altra perdita di tempo perché avete visto la donna in F3 non era attaccato nessuno se l'ha messa in E3 e adesso ha dovuto perdere un altro tempo ok questi qui veramente a forza di perdere il tempo sulla scacchiera questi erano famosi nel loro sono famosi nei loro paesi perché arrivano sempre a ritardo sul posto di lavoro perché a forza di biglionare sul piazzale delle stazioni perdevano i treni ok ma siamo solo all'inizio qui ha visto un pedone in presa e lo sberlucca ovviamente ok però era meglio sberluccare sberluccare e poi guadagnare posto col cavallo va bene però qui vedono un pedone in presa lo mangiano ovviamente dopo il punto interrogativo qui adesso il bianco ha tutti i pezzi che puntano sulla rocco vediamo come gioca il nostro giocatore del laos niente sberlucca qui quando vedono un pezzo in presa lo sberluccano altro doppio punto interrogativo sberlucco cavalline 2 questa va bene altro doppio punto interrogativo signori ma guardate quanti punti interrogativi questi qui quando andavano a scuola la maestra stava lì tutte le volte che facevano il compito in classe tirava delle righe rosse ok che sembrava dargli argento profondo rosso i compiti in classe di questi qui quando tornavano a casa i genitori vedevano il compito in classe corretto dalla maestra vedevano tutti questi punti interrogativi queste linee tutte sbarrate di rosso che chiamavano il 118 dicono pronto pronto chiamate l'ambulanza che mio figlio è tornato a casa che si è tagliato le vene la giugolare col temperino a scuola ha imbrattato tutto il compitino di sangue corretto invece non era sangue erano erano le correzioni della maestra spaventoso spaventoso queste partite vi servono vi servono perché giocatori che non hanno fiducia in se stessi che si svegliano al mattino e dicono ma io cosa perché mi sono svegliato stamattina io stasera dovrò giocare su chess.com o sui chess i tornei le blitz e mi deturperanno l'anima e sono stufo di perdere chiuso nel mio cuscio on-line on-line chiuso lì sempre on-line ok gente che è stata tradita dalla moglie che è andata con il contrabbandiere di pannolini sporchi usati cioè i genitori che hanno preso la patria potestà l'hanno donata al canile municipale dopo averla strappata veramente vicini di casa che vi sputano negli occhi anche se portate gli occhiali appena uscite di casa il postino che si rifiuta di portarvi anche la lettera ok vi sentite così degli stracci umani ok di derelitti guardate questa partita qua vi pare di essere Bobby Fischer e mi dovete anche ringraziare perché così vi sto dando uno stimolo a continuare ok bene andiamo avanti Berlucco altro punto interrogativo ovviamente Berlucco nemmeno io riesco ad analizzare bene sta partita perché è solo un cambio pezzi in realtà qui spinge il pedone perché ovviamente ha visto che era in presa ok qui è una manovra ardita di cavallo vuole dare scacco attenzione far perdere la possibilità di arroccare e qui è un altro blunder vuole cambiare le donne io voglio cambiare tutto scacco ma qua si rischia eh si rischia di perdere la torre però qui la vista di la van io vengo su come caffè al mattino e tu non mi sbarrucchi niente difendo sono bravi a difendere il pezzo eh però non riescono a vedere più in là di un non riescono a vedere il tatticismo nessun tipo di tatticismo solo cambio scacco è arrivato lo scacco è qui a posto di cosa poteva fare qui andare in D1 perché qua c'è la donna qua c'è la donna andare in D1 però non so forse non si fidava di stare sulla cala chiara e dici devi andare sulla cala scura eh va bene qui però c'è il tatticume no c'è la tatticata qui il cavallo prende pedone e scopertoide sulla torre perché è sospesa ma la vedrà e la gioca Tyler Thomas è incredibile Tyler Thomas sembra aver vinto la partita siamo a meno 6.1 sberlucca il cavallo dice ah ma ha lasciato un cavallo in presa come me lo sberlucco e qui mega blunders non sberlucca la torre Tyler ma cosa combini pensava di dare scacco matto secondo me ma non si è accorto che c'è il vescovo che pare al matto ha detto attiviamo finalmente nel momento sbagliato nel momento in cui non bisognava sviluppare il pezzo lo sviluppano non ho visto la torre in presa attenzione re di due adesso la torre è di nuovo difesa dall'altra torre però il nero reclama ancora un piccolo vantaggio può sberluccare il pedone con scacco il pedone lo vede però questi giocatori di questi paesi preferiscono mangiare pedoni piuttosto che mangiare i pezzi perché mangiare i pezzi è come una mancanza di rispetto per l'avversario mangio solo il pedone ok queste partite alle olimpiadi in tutti i tavoli c'è un arbitro che guarda la partita in questo tavolo qua che naturalmente era nascosto dal pubblico era nella zona gabicesi nascosto perché se qualcuno vede sta partita qui dagli spalti rischia di avere un mancamento di volare di sotto e qua l'arbitro obiettivamente deve presentarsi con lo scafandro imbottito di pastiglie di antiemetici perché qui veramente uno si dimentica persino di come si gioca a scacchi qua allucinante proprio nel cambio delle donne perdendo un altro pedone perde tutti i pedoni perde tutti i pedoni ok sverlucco sto ora sembrano avere più case cambiamo ancora le donne scacco ah ma io ti sverlucco anche un altro pedone ti sverlucco tutto e io ripropon guardate che roba poteva quantomeno spostare spostare il re in E1 però ma se sposto il re in E1 che succede mi da un altro scacco poteva salvare almeno questo pedone no ripropone il cambio delle donne ma mangiammi anche l'altro prego prego mangiammi anche l'altro e io lo mando scacco copre col vescovo e qui signori signori inconcepibile inconcepibile Tyler Thomas perde la partita in colpo solo qui veramente credo che che se Freddy Krueger avesse visto questa partita non sarebbe più comparso negli incubi più di nessun bambino si sarebbe dimenticato di avere l'artiglio ma questo è peggio di me ma questo è il vero incubo altro che nightmare ma io sono un dilettante ma che cosa ci sta a fare i film dell'orrore ma che roba è questa c'è preso matto ha detto raddoppio lettori tranquillo poverino bastava mettere a spingere il pedoncello non si prendeva più nessun matto e poi con comodo ma lei c'è il pezzo in meno però era in mutande è clamoroso Villa Vanna vinto la partita ma voi lo sapete che questo qui in Laos diventerà eroe nazionale e ha visto il matto perché ha visto il matto è il primo giocatore del Laos che vede uno scacco matto sulla scacchiera il Laos sapete perché si chiama Laos si chiama Laos perché aspetta l'avevo segnato da qualche parte vabbè poi magari mi torna in mente allora l'avrei dovuto segnarmelo ah laboratorio assemblamento orrori scacchistici Laos giusto me l'ero dimenticato laboratorio assemblaggio orrori scacchistici Laos con la Cambogia tutto quanto però uno in Cambogia e in Vietnam va in vacanza no magari in Birmania ci sono i templi il Laos è l'unico posto dell'Indocina dove non c'è nulla ok e parliamo anche di Granada Granada da Granata perché quando li vedono giocare a scacchi lanciano le bombe a mano per impedirgli di giocare a scacchi addirittura i Marines americani avevano invaso Granada proprio perché li avevano visti mettersi lì a giocare a scacchi signori questi veramente sono delle armi di distruzione di massa dell'autostima nel senso dell'autostima loro però in realtà servono per l'autostima dei pepino meccanici ok perché perché quando vedete questi orrori qua dite ma io gioco meglio posso anche andare a giocare le Olimpiadi bene signora veramente ovviamente queste cose vanno anche dette dovete farle vedere perché ok cercate di non farle vedere ai bambini queste cose qua o anche i deboli di cuore potrebbero impressionarsi comunque va bene continuiamo oggi ci sono su su Twitch dalle 17 più o meno più o meno con questo è tutto ci vediamo domani mi sono un po' dilungato ma questa partita meritava cioè no domani non ci vediamo perché c'è il riposo domani c'è il riposo quindi niente video recap e niente niente Twitch a me riposo anche un po' anch'io bene con questo è tutto mi raccomando like e descrizione ciao e arrivederci ciao